ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario orobiotico informazioni commerciali titolare chemifarma spa concessionario chemifarma spa confezioni orobiotico barattolo 1 kg orobiotico barattolo 500 g formulazione lieviti essiccati che apportano naturalmente 7b glucani 30.000 mg mannano oligosaccaridi 25.000 mg nucleoti di 7000 mg vitamine vitamina b1 vitamina b2 vitamina b6 niecina acido pantotenico acido folico colina componenti analitici proteina grezza 45 per cento cellulosa grezza 0 per cento oli e grassi grezzi 2 per cento lisina 003 per cento metionina 002 per cento sodio 002 per cento indicazioni a un alimento che grazie a componenti nutraceutici di particolare rilevanza nutrizionale ottimizza gli alimenti e grazie alla sua funzione prebiotica può contribuire a migliorare le condizioni fisiologiche dei volatili in tutti i periodi della loro vita grazie al suo contenuto aminoacidico contribuisce a mantenere il più maggio nelle migliori condizioni può essere utilizzato quotidianamente in aggiunta al normale alimento per migliorarne le prestazioni grazie al suo contenuto naturale di aminoacidi vitamine e oligoelementi risulta particolarmente utile se somministrato prima e dopo mostre competizioni viaggi e prima della muta e dopo trattamenti antibiotici o antiparassitari posologia uccelli da gabbia e da voliera miscelare quotidianamente e accuratamente nel pastone alle seguenti dosi per rafforzare le condizioni fisiologiche e mantenere il più maggio nelle migliori condizioni 10 g ogni kg di mangime completo per periodi di 30 60 giorni prima e dopo mostre competizioni viaggi muta e trattamenti antiparassitari 20 g ogni kg di mangime completo per 20 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato